... molto profonda, amissima moto, prova ad arrivare ancora, palla in mezzo, palla sulla traversa e poi sul fondo ha sfiorato il goal, Immobile, poi la conclusione sul fondo di D'Ambrosio. Occhio perché il ballone viene regalato al Torino con Immobile, se ne va solo davanti al portiere, parte il tiro a Rete, vantaggio del Toro, ha segnato Ciro Immobile solo davanti a Ducar, errore clamoroso della difesa in Catania che ha lasciato praticamente il campo aperto in Granata. ... attenzione a Guarente, si fornita, parte il tiro, Gran Botte, palla fuori. Occhio all'imbucata di Catturi davanti al portiere Immobile, lo salta, parte il tiro, palla esterno e palla sul fondo. Occhio, pallone filtrante per Bascia, mischia, regola, solge il portiere, Catturi, che non sbaglia, 2-0 Torino. Marendos in area per Maxi Lopez, lo scarico per Leto, Leto col mancino, Leto, 2-1, ha segnato Leto, la partita si riapre, ha il quinto minuto nel secondo tempo. ... attenzione al corner, in pezzo, ma qui investe i guarenti, palla rete! Allora, grazie, grazie. ... ...